Giorgio Bo, ex assessore al Comune di Chiavere, i lavori pubblici e al patrimonio, due diversi mandati dal 1993 e alternativamente fino al 2012. Una storia, la sua, che ha raccontato di recente e che è uno specchio di quello che è l'area di Colmata, che è un argomento che in questi giorni sta salendo in città per l'opportunità o meno di costruirvi sopra un depuratore. In quell'occasione lei ha avuto modo di raccontare la storia di quell'area, ce la riassume? La storia che ho vissuto personalmente non è dall'inizio, ma è da un certo periodo in poi, ovvero da quando? Da discarica, che era diventata una discarica di inerti quella zona, di inerti e di altre robe, al momento della creazione dell'area di Colmata vera e propria che poi ha accolto il Papa. Intanto la discarica, e questo per sentito dire per vissuto in maniera indiretta, risale ai tempi di Gatti, il quale Gatti, d'accordo con la società che costruiva l'autostrada, che poi diventerà la A12, non sapevano dove gettare gli inerti degli scavi a seguito della galleria dell'anchetta e aveva suggerito di buttarli a mare in quella zona. Quindi era diventato un riempimento di inerti. Col tempo, finita l'autostrada eccetera, quel riempimento è diventato un riempimento di discarica, ovvero in quella discarica ci si trova di tutto, frigoriferi e quant'altro, ma una macchina anche, è una discarica vera e propria dove si buttavano di tutto sacchetti di plastica e quant'altro. Quindi ci sono due fasi già in quel periodo, la prima di inerti veri e propri, la seconda di roba di vario genere, quindi anche inquinante. Poi è venuta la terza fase, che è la nostra, dove ci sono stati gettati nuovamente degli inerti dalla cava dell'entroterra di Chiavari, sia per riempimento, sia per fare una specie di diga naturale che poi sarebbe diventata il perimetro dell'area di Colmato. Nell'intento dell'amministrazione dove lei appunto era assessore, che tipo di utilizzo veniva immaginato di quell'area? In quell'area inizialmente era servita soltanto per la presenza del Papa, ma poi si era fatto un bando di gara, di utilizzo dell'area a livello internazionale, dove è stato presentato anche il progetto uscente vincente qui in Villa Rocca. Una continuità edificata mista tra il privato e il pubblico. Che comprendeva residenziale e ricettivo? Esatto. Era mezzo turistico, ricettivo, alberghiero e una parte invece privata, vera e propria. Poi tutto questo, diciamo così, si è assopito perché è cambiata anche l'amministrazione in allora. Che idea si è fatto lei della costruzione di un depuratore in quell'area? Quando c'eravamo noi il problema del depuratore non esisteva perché Chiavari aveva, l'unica di tutto il Tiguglio, che avesse un depuratore efficiente. Che è quello di Preni. Che è quello di Preni. Cosa è successo? Che noi non eravamo al Nero nel 2012, eravamo ancora fuori dalle leggi o legisferazioni europee, in quanto eravamo in regola. Quindi non c'eravamo un po' singolo anche il problema. Però vedevamo già nel futuro, nel senso che prima o poi l'avremmo dovuto affrontare. Arriviamo a oggi quindi. Lei si è dichiarato perplesso rispetto alla costruzione del depuratore in quell'area. Che cosa la perprime? Il disagio che a mio giudizio, e sono ottimista, è la durata della costruzione del depuratore, che è prevista per me per almeno cinque anni, e penso che siano di più invece, dove ci sarà un continuo via vai di camion che apportano e asportano terra e portando massi. Anche perché per la difesa di questo depuratore occorre fare una massicciata di difesa, che è dal niente, dal nulla. E questa difesa deve avere una pendenza di almeno 15 gradi. Quindi è una piattaforma di massi che è larga almeno 50 metri. Le altre propensità sono il fatto che questi cinque anni sono un grosso colpo negativo al turismo. E all'economia in generale. in generale. Perché perdiamo tutte le possibilità, soprattutto d'estate, di balneazione. La terza sono il fatto che ci sono le pendenze delle attuazioni che sono in senso contrario a quanto si vuole ottenere. Quindi ci vorrebbero degli aspiratori, mediamente ogni 500 metri, per trasportare dal basso verso l'alto il liquame che viene. Quindi delle pompe. Delle pompe, in realtà. Di aspirazione. Esiste, secondo lei, una contropartita che la città potrebbe chiedere in caso di costruzione? Avrebbe un senso? È quantificabile? Quantificabile? Non lo so. Dovrei essere un tecnico a conoscenza piena del depuratore. In quanto c'è un problema che nessuno mette in rilievo. Che questo depuratore, il progetto, non prevede, o perlomeno non è previsto nel progetto, l'emissione e l'emissione dei liquami di entrate e di uscita del depuratore. Dove passano i tubi? Questo è un problema grossissimo. C'è un danno economico notevole sul momento che si ripercuoterà nel tempo. La contropartita offerta sono i famosi posti macchine al coperto. Quindi il garage sotterraneo. Il quale garage sotterraneo non ho capito se è gratis. Ma anche qualora lo fosse, è sufficiente? No. Se fosse gratis, il comune si accaparra le spese delle manutenzioni. Perché un garage a cielo aperto ha un costo. Un garage al coperto ha un altro costo di luci, di mantenimento, di pulizia e quant'altro. E chi le fa queste spese? Se è gratis, lo fa il cittadino comune.